Era il 19 dicembre del 2019 quando i carabinieri del comando provinciale di Vivo Valenza eseguirono 343 arresti in tutta Italia, all'interno dell'operazione chiamata Rinascita Scott, blitz che cambiò la storia della lotta all'Andrangheta. Tra gli arrestati non solo nomi eccellenti della criminalità calabrese, ma anche della politica, imprenditore, insospettabili appartenenti alle forze dell'ordine e colletti bianchi. Per molti di loro, dopo due anni e dieci mesi di utenze, nell'aula bunker appositamente costruita la mizia terme, è arrivata la sentenza di condanna. C'è voluto oltre un mese di Camera di Consiglio, ma il collegio giudicante con Presidente Brigida Gavasino, Claudia Caputo e Germana Radice Alattere, è tornato in aula per leggere il dispositivo della sentenza che riguarda 338 imputati, accusati a vario titolo, di oltre 400 capi di imputazione, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio aggravato, traffico di droga, reati per i quali l'allora procuratore Nicola Gratteri e i pubblici ministeri Anna Maria Frustaccia, Antonio De Bernardo, Andrea Mancuso, Andrea Buzzelli avevano chiesto pene per un totale di 4.744 anni e 10 mesi di carcere. I verdetti più attesi erano quelli nei confronti di Giancarlo Pittelli, ex parlamentare avvocato, che è stato condannato a 11 anni di reclusione, del tenente colonnello dei Carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi, e dell'ex finanziere Michele Marinaro, condannato a 10 anni e 6 mesi. Anche l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino è stato condannato a 1 anno e 6 mesi, suo cugino Giovanni Giamborino invece di anni ne ha avuti 19 e 6 mesi. Pene pesantissime per i vertici dell'andrancheta vibonese, 30 anni sono stati inflitti a Saverio Razionale, indicato come il post di San Gregorio Dipponi, a Domenico Bonavolta ritenuto il boss di Santonofrio. Condannato a 4 mesi anche l'ex comandante della polizia locale, sia della provincia che del comune di Vibo Valencia, Filippo Nesci. Anche tra gli assolti ci sono nomi importanti. Cadono le accusa nei confronti di Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, per il quale erano stati chiesti 18 anni. Assolto anche l'ex assessore regionale Luigi Incarnato, l'ex assessore comunale di Vibo Valencia Vincenzo De Filippis e l'ex consigliere comunale Alfredo Lobianco. Assolto anche l'ex presidente della Vibonese, l'imprenditore Francesco Patania, detto Cicciobello, per il quale la procura aveva chiesto 19 anni.